Da medico, ho sempre fatto del mio meglio per essere gentile e professionale. Ero brava nel mio lavoro, ho aiutato molte persone. In breve tempo, tutti nella nostra comunità si fidavano completamente di me. Anni dopo, ho scoperto che i miei colleghi avevano comprato auto e case nuove, mentre io vivevo ancora in una vecchia casa di famiglia e giravo in bicicletta. Avevo due gemelli che crescevano molto in fretta. Le spese da sostenere erano tante, ma i soldi erano pochi. Quando pensavo alle nostre finanze, non riuscivo a mangiare né a dormire. Mi chiedevo perché io, a malapena, riesco ad arrivare a fine mese e gli altri dottori guadagnano così tanto. Poi, un giorno, a una conferenza di medici rurali, stavo chiacchierando con alcuni colleghi, i miei amici, e ho chiesto loro come facessero ad aumentare le loro entrate. Il dottor Sun ha risposto, Le autorità centrali hanno detto un gatto può essere bianco o nero, l'importante è che catturi i topi. I soldi sono tutto nella società di oggi. Guadagnare denaro è un'abilità in sé, ma se ti fai ostacolare dalla coscienza, sarai sempre povera. Poi, il dottor Lee ha proseguito. Se vuoi maggiori introiti, devi trattenere i pazienti. Mentre li curi, dai loro degli ormoni, così guariscono velocemente, ed è una cosa legale. Così avrai buone recensioni e arriveranno più pazienti e più soldi. Infine, il dottor Jin ha concluso. Piccole malattie, grandi cure. Se uno arriva con una tosse dovuta al raffreddore, con la cura normale non guadagnerai molto e richiederà del tempo. Agisci come se fosse polmonite o influenza. Sarà più redditizio. Il paziente starà meglio e nessuno ci perde. Ognuno aveva il proprio metodo per fare soldi. Ero allarmata. Fare soldi sulla pelle dei pazienti sarebbe praticare la medicina. Non era quello un comportamento a dir poco meschino. Ma pensavo anche alle case in cui i miei colleghi vivevano e alle auto che guidavano e alla sicurezza con cui loro si esprimevano, mentre io giravo ancora in bicicletta ed ero povera. Se non avessi fatto come loro, come avrei guadagnato più soldi? Come avrei dato alla mia famiglia una buona vita? E poi, era una cosa che facevano tutti. Anche se avessi continuato a lavorare con etica, non avrei cambiato la società. E con la promessa di più entrate, la mia coscienza purtroppo è stata soffocata. Così ho deciso che anche io volevo provare quel metodo. Ho provato il sovratrattamento vendendo un numero eccessivo di farmaci. Un giorno è arrivato un uomo che aveva mal di denti. Era solo una gengivite. Avrei potuto dargli qualche farmaco economico, ma vedendo che il dolore era forte, ho pensato alle parole del dottor Jin. Piccole malattie, grandi cure. Così ho prescritto medicine occidentali e tradizionali, oltre alle iniezioni. Avevo paura che il paziente facesse rimostranze. Così, fingendo compassione, ho detto «Sono molte, ma cureranno la radice i suoi sintomi». Lui si è limitato a premersi la guancia, poi ha pagato e se ne è andato senza fiatare. Guardandolo mentre usciva, l'ansia che avevo ha iniziato lentamente a diminuire. Avevo fatto più soldi del solito e se mi sentivo in colpa all'inizio, poi quella sensazione è svanita. Un altro giorno è venuta una mamma con il figlio di soli cinque anni. Aveva il raffreddore e un po' di tosse, quindi avrei potuto dargli degli antibiotici. Poi mi sono ricordata che non ci avrei guadagnato nulla. Così ho detto alla madre, «Il bambino ha la tracheite, serve subito una flebo o diventerà una polmonite». È rimasta davvero scioccata, però mi ha creduto senza fare domande e ho messo il paziente per quattro giorni sotto flebo. Al momento delle dimissioni, il denaro che ho ricevuto era molto di più di quello usuale. Mi sentivo in colpa, ma ho ripensato alle parole degli altri medici. La coscienza non paga le bollette e non ti sfama. Se le dai retta, sarai sempre povera. Queste parole hanno fatto completamente svanire il mio rimorso. A volte bisogna mentire per guadagnare e sopravvivere in questa società. Non avevo altra scelta. In seguito, una donna che aveva una bronchite cronica è venuta da me. Doveva solo prendere un semplice farmaco, ma se avessi fatto così, non mi sarei intescata nulla. Così le ho detto che le serviva di corsa una flebo o sarebbe diventato un enfisema che avrebbe causato una malattia cardiaca. Con il mio incoraggiamento, è stata felice di accettare l'indovena per sette giorni. Ricordo alla fine della cura, mi ha preso la mano e ha detto «Grazie, dottoressa. Mi sento nettamente meglio dopo questa cura. Se la situazione fosse degenerata, avrei davvero sofferto». A quelle parole, mi ha rimorso la coscienza e sono diventata tutta rossa in viso. Poi mi sono detta «In questa società, chi è che non mente o non imbroglia? Guadagnare denaro è un'abilità in sé». Questi ragionamenti facevano dileguare il mio disagio e tutte le preoccupazioni. Così mi impantanavo sempre di più nella ricerca del denaro. Dopo qualche anno, avevo fatto molti soldi. avevo una casa più grande, i miei figli erano sposati e la vita era bella. Eppure mi sentivo costantemente in colpa. Non ero per niente in pace. Ero in ansia, costantemente. Temevo che qualcuno potesse scoprirlo e poi raccontarlo a tutti a mia insaputa. quel pensiero era difficile da sopportare. Un giorno, una sorella del nostro villaggio mi ha predicato il Vangelo del Regno di Dio e ho iniziato a leggere spesso le parole di Dio. Durante una riunione, abbiamo letto un passo delle parole di Dio sull'onestà. Ascoltate. Dovete sapere che Dio ama coloro che sono onesti. In sostanza, Egli è leale, quindi ci si può sempre fidare delle Sue parole. Inoltre, le Sue azioni sono irreprensibili e indiscutibili. Ecco perché Dio apprezza quelli che sono onesti con Lui. Onestà significa donare il vostro cuore a Dio, essere sinceri con Lui in ogni cosa, aperti con Lui in ogni cosa, senza nascondere la verità, senza ingannare i superiori e i subordinati e senza fare le cose solo per ringraziarsi Dio. In breve, essere onesti vuol dire essere puri nelle vostre azioni e parole e non ingannare né Dio né gli uomini. Quello che dico è molto semplice da fare, ma per voi si tratta di una cosa doppiamente ardua. Molti preferirebbero essere condannati all'inferno piuttosto che parlare e agire con onestà. C'è poco da stupirsi se ho in serbo altri trattamenti per coloro che sono disonesti. Amén! Come il destino alla fine si determinerà, dipende dal fatto che una persona possieda o meno un cuore caldo e sincero e possieda anche un'anima che sia pura. Se invece sei un individuo sleale, con un cuore pieno di malizia e anche un'anima impura, allora finirai nel luogo in cui l'uomo è punito, come è scritto nel registro del tuo destino. Se affermi di essere del tutto onesto, eppure non sei mai in grado di agire secondo la verità o non sai pronunciare una parola di verità, non stai forse aspettando ancora che Dio ti ricompensi. Speri ancora che Dio ti consideri come la luce dei Suoi occhi. Non è questo un modo di pensare insensato? Inganni Dio in tutte le cose. Dunque, come potrebbe la casa di Dio accogliere te che sei individuo con le mani impure? Amén! Leggendo le parole di Dio, ho capito che la Sua essenza è fedele e Gli piacciono le persone oneste. Dio ci chiede di essere aperti con Lui nei discorsi e nelle azioni, sia in privato che con gli altri. Dobbiamo accettare il Suo esame e non mentire a Dio né agli altri. Dobbiamo essere sinceri e degni di fiducia. Solo così veniamo salvati ed entriamo nel regno di Dio. Solo così. Pensando a ciò che Dio richiede da noi, mi sono resa conto che, come medico, non pensavo ai miei pazienti e a come curarli nel modo più corretto, ma a come guadagnare più soldi per me stessa. Ho truffato la gente per il denaro, invece avrei dovuto pensare a guarirla, essendo un medico. Ho sfruttato le paure della gente, facendo passare per molto gravi dei semplici malanni e usandoli per spacciare farmaci costosi e prolungare il trattamento. Nonostante lo spreco di soldi, mi avevano ringraziato. Ero una persona terribile e spreggevole. Già. Nonostante stessi accumulando più denaro che mai, ero costantemente paranoica e nervosa e non riuscivo a rilassarmi. Mi ero comportata senza alcuna coscienza. Vero. Le parole di Dio mi hanno mostrato che Egli odia i bugiardi e le persone che ingannano e per loro non ha in serbo nessun lieto fine. No. Solo gli onesti ricevono la lode di Dio e la Sua salvezza. Da allora, ho desiderato essere quel tipo di persona. Ho deciso che non avrei più imbrogliato nessuno e avrei smesso di curare i pazienti dicendo falsità. Volevo praticare la medicina in maniera onorevole e onesta. Bene. Questa è la strada giusta. È fantastico. Un po' di tempo dopo, ho realizzato che da quando avevo smesso di truffare i pazienti con le cure, le mie entrate erano di gran lunga inferiori. All'epoca, il rendimento dell'ospedale era legato alle vendite di medicinali negli ambulatori. Un giorno, il Consiglio di amministrazione ha indetto una riunione. Secondo il Presidente, avevo trascinato l'ospedale verso il basso e lui ha tolto la nostra targa di clinica d'avanguardia. Sì. Inoltre, avevano iniziato a dare degli incentivi al personale. Quindi ogni mese, se un medico superava la sua quota mensile di vendite dietro prescrizioni, il 50% del surplus sarebbe stato la loro commissione. Così mi sono resa conto che, se avessi ricominciato a lavorare usando il vecchio metodo, alla fine avrei ottenuto oltre 4.000 yuan in più ogni mese, un extra di 50.000 all'anno. Se invece non avessi ripreso quella pratica, non avrei mai raggiunto gli obiettivi che ci avevano assegnato e avrei perso un sacco di denaro. Più ci pensavo, più sentivo che essere onesta era una cosa impossibile nel mio mestiere. Dovevo ingannare la gente per fare soldi. E così, sono andata di nuovo contro la volontà di Dio. Ho ignorato la mia coscienza e ho ripreso le vecchie abitudini. Un giorno, una coppia sposata mi ha portato il figlio. Aveva preso un raffreddore, sfociato in un'infezione respiratoria e serviva qualche semplice medicina. Fingendomi preoccupata, ho tirato fuori lo stetoscopio e ascoltato il petto e la schiena del paziente. Dopo questo finto esame, ho detto ai genitori con tono severo, il bambino ha una polmonite pediatrica, si è già diffusa, avreste dovuto venire prima, un altro giorno e sarebbero stati guai. Per fortuna c'è ancora tempo, gli metteremo una flebo per qualche giorno e starà bene. E così ho ripreso a ingannare i miei pazienti, spillando loro soldi. Avevo mentito di proposito sul bambino. Più tardi io mi sono rimproverata. Temevo che prima o poi mi avrebbero scoperta, quindi ero ogni giorno sulle spine. A volte mi dicevo che era l'ultima volta e che dal paziente successivo avrei smesso, però non sapevo resistere alla tentazione del denaro e non riuscivo ad evitare di commettere certi peccati. La mia vita era ormai una lotta. Ero consapevole che Dio esige onestà da noi, ma non riuscivo comunque a smettere di ingannare i miei pazienti. In seguito, ho letto un passo delle parole di Dio Onnipotente. Nato in tale sudicia terra, l'uomo è stato gravemente rovinato dalla società, è stato influenzato da un'etica feudale ed educato in istituti di istruzione superiore. Pensiero retrogrado, moralità corrotta, visione meschina della vita, ignobile filosofia di vita, esistenza del tutto priva di valore, stile e abitudini di vita depravati. Tutte queste cose sono penetrate pesantemente nel cuore dell'uomo e hanno gravemente minato e intaccato la coscienza di quest'ultimo. Il risultato è che l'uomo è sempre più lontano da Dio e Gli si oppone sempre più. Giorno dopo giorno, l'indole umana si fa sempre più maligna e non vi è nessuno che sia disposto a rinunciare a qualcosa per Dio, nessuno che abbia la minima voglia di obbedirgli, nessuno che abbia intenzione di cercare la Sua manifestazione. Invece, sotto il dominio di Satana, l'uomo non fa che perseguire il piacere, abbandonandosi alla corruzione della carne nella terra del fango. Anche quando odono la verità, coloro che vivono nelle tenebre non pensano affatto a metterla in pratica né vogliono andare alla ricerca di Dio, sebbene Lo abbiano visto manifestarsi. Come può sperare nella salvezza un genere umano così depravato? Come può vivere nella luce un'umanità così decadente? Amen! E un altro passo. Dopo migliaia di anni di corruzione, l'uomo è diventato insensibile e ottuso, un demonio che si oppone a Dio, a tal punto che l'insubordinazione umana verso Dio è stata documentata nei libri di storia e persino l'uomo stesso non sa dare conto del suo comportamento ribelle. Questo perché l'uomo è stato così corrotto e traviato da Satana da non sapere più dove sbattere la testa. Ancora oggi, l'uomo continua a tradire Dio. Quando Lo vede, Lo tradisce. E quando non Lo vede, Lo tradisce ugualmente. C'è persino chi, malgrado sia stato testimone delle maledizioni e della collera divine, persevera nel tradire Dio. Per questo dico che la ragione dell'uomo ha perso la sua funzione originale e la stessa cosa vale anche per la Sua coscienza. Amen. Amen. Le parole di Dio mi hanno rivelato che la nostra società e l'istruzione che abbiamo ricevuto sono state corrotte da Satana. Vero. Non c'è ricchezza senza scaltrezza. Oppure la frase Influenzati e avvelenati da questi punti di vista, i nostri valori diventano distorti. Mettiamo i soldi al di sopra di ogni cosa. Abbandoniamo la nostra moralità solo per qualche centesimo in più. Mentiamo e imbrogliamo. Siamo sempre più egoisti, avidi e ingannevoli, perdendo la nostra umanità. Sì. Il dovere di un medico è curare i pazienti nel modo più etico possibile. Questo è il fondamento della coscienza umana. È vero. Ma sotto l'incantesimo del denaro, molti medici esagerano con le cure, prescrivendo eccessive quantità di medicinali e convincendo i pazienti a prendere ormoni. Anche se all'inizio non vedono il pericolo, l'uso eccessivo di farmaci e ormoni nel tempo danneggia il corpo molto gravemente. Troppe medicine possono essere tossiche per un paziente e spesso causare malattie croniche. È una forma di omicidio lento. Più riflettevo, più mi spaventavo. Pensavo a quando da giovane volevo diventare medico. In origine volevo aiutare la gente comune. Ma le idee sataniche come ognuno per sé e che gli altri si arrangino, il denaro viene per primo e un gatto può essere bianco o nero, l'importante è che catturi topi, hanno iniziato a prendere il controllo su di me e lentamente ho perso la coscienza e la ragionevolezza. Ho trasformato malanni di tre giorni in malattie di cinque, solo per fare soldi. Anche se bastavano cinque centesimi, io curavo la patologia per dieci. Satana mi aveva corrotto al punto che avevo perso tutta la mia coscienza e la ragionevolezza. La mia indole era sempre più malvagia. Ero un lupo travestito da pecora che pensava più al denaro che alla coscienza. Sì. Dopo aver accettato l'opera di Dio, sapevo che Egli ci richiedeva di essere persone oneste, ma io ancora non riuscivo a resistere al canto di quelle sirene e così ho ricominciato a imbrogliare i miei pazienti. Ho capito che i veleni di Satana erano diventati parte della mia natura. Se non fosse stato per il giudizio delle parole di Dio che mi hanno guidata a vedere l'odiosità e il pericolo delle mie bugie, avrei continuato a vivere come un impostore. Avrei passato la vita nell'ansia e nel rimorso. E a causa del mio comportamento malvagio sarei stata punita con l'inferno. Giusto. Finalmente, ho capito quanto sia importante che Dio ci chieda di essere onesti. Essere sinceri e compiere azioni oneste sono elementi che ci danno integrità e dignità e ci permettono di mettere in pace il nostro cuore. Giusto. Quando ho compreso la volontà di Dio, l'ho pregato. Volevo ricominciare da capo, abbandonare me stessa, praticare la verità ed essere una persona sincera. Amén. Un giorno è arrivato un paziente da un altro villaggio. Dopo aver fatto un attento esame, ho stabilito che aveva un'ulcera venosa alla gamba. È una brutta malattia. Ed è difficile da curare. Però conoscevo una cura che l'avrebbe fatta sparire per pochi spiccioli. Mi ha detto che aveva consultato molti medici e alcuni ciarlatani e che aveva speso migliaia di yuan senza risultati. Ascoltandolo, ho iniziato a pensare. Ha già speso più di mille yuan. Se lo facessi pagare qualche centinaio, non sarebbe così male. Sarebbe un peccato sprecare questa occasione. Mentre ci riflettevo, ho avvertito un tuffo al cuore. Io imbroglierò Lui, poi però basta. Ma mentre mi preparavo a dargli la ricetta, ho pensato, al proposito che avevo fatto davanti a Dio, ho iniziato a pregare. Amato Dio, ho ancora voglia di mentire. So che non dovrei continuare a tradire Te e la mia promessa. Dio, aiutami a essere una persona onesta e meno avida. E mi è venuto in mente un passo delle parole di Dio. Dio è sempre nel cuore di chi crede veramente in Lui e ha un cuore pieno di venerazione e di amore per Dio. Coloro che credono in Dio devono agire in modo cauto e assennato, e ciò che fanno deve essere conforme ai Suoi requisiti e soddisfare il Suo cuore. Non devono essere persone caparbie che fanno ciò che piace a loro. Ciò non si addice alla condotta dei santi. Amén. Questo passo delle parole di Dio mi ha mostrato che i veri credenti riveriscono Dio nei loro cuori, sono onesti e affidabili, fanno le cose apertamente, accettando l'esame di Dio senza ingannare nessuno, agiscono sempre con una condotta santa e si comportano come Egli richiede. Non lo disonorano, non si ribellano a Lui, né fanno cose che Egli odia. Amén. Mi sono resa conto che Satana stava cercando di usare il denaro per ammaliarmi e corrompermi di nuovo, per farmi continuare a mentire, però non potevo continuare a ribellarmi a Dio e alle Sue richieste. Ero grata per la guida e l'illuminazione delle Sue parole. Infatti. E l'ho pregato ancora una volta. Dio, hai portato qui questo paziente per mettermi alla prova. Prima per amore del denaro, mentivo e imbrogliavo e ho vissuto la parvenza di Satana. Ma a partire da oggi, voglio essere sincera per soddisfare Te e umiliare Satana. Amén. Sia lodato Dio. Dopo aver pregato, mi sono rivolta al paziente. Anche se è dura trattare questa malattia, le prescrivo una cosa che le garantisco funzionerà, a 30 centesimi soltanto. Lode a Dio. Se fosse successo prima e avessi dovuto vendere questa prescrizione, avrei chiesto molto di più di quella cifra. Ora, però, le parole di Dio mi avevano dato la sicurezza per praticare la verità ed essere una persona onesta e virtuosa. Non avevo più intenzione di imbrogliare gli altri. Sia lodato Dio. Ricordo ancora quando il paziente se n'è andato con la sua medicina, mi sentivo in pace ed ero incredibilmente felice. Sia lodato Dio. Dieci giorni dopo, è tornato e ha detto colmo di gratitudine. Ho cercato una cura ovunque, ma senza risultati. Non ho nemmeno usato tutto il farmaco e la mia ferita è guerrita. È una cura miracolosa. Grazie mille, davvero. Parlerò di lei a tutti quelli che conosco. Non solo è altamente qualificata, ma è anche conveniente. Quando ho sentito che Lui mi ringraziava, sapevo che questo mio piccolo cambiamento era stato merito delle parole di Dio. Amén. Mi sono ricordata di quando pensavo «Non c'è scaltrezza senza ricchezza» oppure «Il denaro viene per primo». Ognuno per sé è che gli altri si arrangino. In preda a questi veleni ho perso la mia coscienza, la mia integrità e la mia morale. Avevo il cuore di ghiaccio. Le parole e la salvezza di Dio mi hanno ridato la coscienza e la ragionevolezza e mi hanno fatto riconquistare i miei principi. Amén. Lode a Dio. Da allora in poi ho curato coscienziosamente ogni paziente che ricevevo, prescrivevo ciò che serviva loro ed ero sincera sulle loro condizioni. Ho mantenuto la mia promessa di essere onesta. Amén. E così facendo, ho visto più benedizioni di Dio. Mi sentivo salda, libera dall'ansia e in pace. Inoltre, le persone che curavo raccontavano ad altri della loro esperienza con me. Lode a Dio. Tutti quelli dei villaggi vicini volevano me come medico. Le cose che ci rendono veri esseri umani sono l'onestà e la sincerità. Essere sinceri e non dire il falso sono i primi passi per diventare persone oneste. E so che ho molto da fare per sistemare le cose e vivere secondo i requisiti di Dio. Lode a Dio, onnipotente. È bello vivere così. L'onestà ci arreca tanta pace.